E ancora una volta, ciao ragazzi, eccoci tornati in un nuovo gioco che non ho ben capito il nome è uno sparatutto in prima persona e ho iniziato a giocare da poco, ma davvero, oddio ci sono i robot, ma scherzi poco o più di 20 minuti che gioco e ho già sbloccato l'acqua, anche se solo per due giorni ce l'ho già c'è qualcuno là oddio, ho visto qualcuno, cazzo pica, sì il robot ho visto, ecco, lasciamo stare che è meglio, cambiamo arma anche se mi piaceva cambiamo arma lo stesso, dai come si cambia, non dirò che, dovrò rimanere con questa per sempre impossibile giocare vabbè, dai fai niente, ci abitueremo allora, questa abilità ti promette di vedere la posizione dei nemici, visto che è un po' buio ok, possiamo sparare al robot, sarebbe già una bella cosa sembra... ok, un robot and a... it's me, robo... oh... ok WTF ecco, ciuclincocchi vince yeah, arcobaleno, yeah no, no, io direi di fare un'altra partita assolutamente, no, 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 come no, decido io qui, decido io la facciamo un'altra partita ora dai, carica, devo dire che è anche molto veloce come gioco, eh devo dire che è un buon avversario di Star Wars io su questo vi porterò una serie di sicuro, perché è davvero troppo bello comunque sia, io direi ora di abbandonare la partita aspetta, personalizzazione, no, non abbandoniamo niente, cambiamo arma visto che io questa ce l'ho già, no, questa ce l'ho già, no, 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 questa, sì andiamo con questa, no, vabbè, sono tutte più o meno uguali comunque, l'arco non è un granché, l'abbiamo scoperto quando... ok, giusto, giusto, si comincia come ho già detto, una FPS gratis, prima che me lo scrivete nei commenti è gratis, scaricabile dal PlayStation Store gratuitamente, a me ci ho impiegato due, tre ore ma l'ho fatto la sera ok, stanno in pochissimi l'ho fatto la sera in modo che poi la mattina potevo già giocare cioè non proprio la mattina, insomma la sera visto che vado a scuola comunque sia, se non ho capito bene si possono anche comandare il robot passaggio alla nuova macchina, sì, è proprio, non lo sapevo cioè come ho già detto, gioco la 20 minuti esagerando, eh dai, inizia il gioco ok poi magari esco, anzi qui, ok dai, inizia il gioco, ok wow, quest'arma ha l'aria di essere molto fita guarda ok direi di affrontare questi che non sono troppo lontani no, ma che schifo di arma no, no, ma che schifo di arma no, no, davvero perché non mi fate cambiare armi ok, adesso è diventato automatico ah no, forse l'ho cambiato ah, ok, ho scoperto che si possono cambiare le armi aspetta ok, ce n'è uno lì così adesso lo eliminiamo maledetto ah nek mi ha ucciso però è bello quando muori che si vede la visuale ok, stiamo facendo una figura schifosa ok, mettiamoci più sulla difensiva non camper, mi raccomando ma come... oh, eccolo, eccolo, eccolo e va il nostro primo nemico eliminato Gustav oh raga, quanta bella botte di vino cioè, botte di vino non ha senso invece ha mui, mui sensino come ho ammazzato quello ok, vediamo che arma oh, yes è un tattica rasso ultrifico che mi trae? che figata farò le mille, mille stragi con questo fucile ve lo giuro aspetta oh, oh, cazzo no, le mille, mille stragi e una oh, mille, mille stragi una io l'ho detto, eh cambiamo arma mitragliatrice boot star fire proviamola no, è quella di prima che schifo devo imparare i nomi altrimenti non si può ok, la vedo già un nemico bello, bello pigliata ah, non ho ancora ben capito come si lanciano ahia, da dietro sembra tutto più lento con quest'arma non riesco a correre allora ok, ce n'è uno subito qui come per dire vieni foregame vieni uccidimi pure sono qui tanto oh, oh no, ma che fu ah, ok aspetta no proprio adesso ricarchi oh c'ho il coltello ti ho visto 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 ok, ti ho ucciso oh, oh ecco un altro ecco questo ne ho ucciso fucile da solito ah, ci sono solo due armi mitraietta fucile ah, vabbè io prendo il fucile è sempre meglio ecco non si può scivolare tipo quando tu corre e scivoli non chiedetemi perché a due metri io mi metto a mirare lo stesso che arma avevi tattica là sotto sì, sì è quello di prima siamo in pochi in partita adesso la prossima volta che muo oh, oh surprise ma da fa più sono in re ho visto le mille milioni di micio in fondo ok il corpo non dirmi che si possono comandare i veicoli ma no no, io non ci credo no, ok non si può meno male no vabbè vogliamo assistere in prima persona no che figo cioè sto vedendo gli altri giocare ora vai let me go let me go dove sono dove sono dove sono ok uno là oh uno qui sotto non so no no oh yes oh cavolo cospito la rigò no ok mi ha ucciso non ha senso che figo come fai a diventare un robot voglio saperlo assolutamente anzi ora vado a lanciare una bella granata ok il robot è l'avanti ma qui dietro c'è un uomo prima di uomini ah 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 no è un'aria radioattiva questa oh oh vabbè è ucciso eh grazie da lì comunque mi sa che aggiungerò un'arma cioè un mirino in modo che possa mirare meglio anche se oh ora faccio il tag tag dettagli sei ancora qui eh oh 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 passa eliminato dov'è la tua bella arma cos'è fucile d'assalto fucile uguale al mio però là c'è un bel robot che mi vuole far uccidere oddio sposta la forge oh cavolo ho sbagliato volevo lanciare io quella io per l'albe what the fuck oddio la mia visuale di morte oddio che figo prima o poi capirò come diventare un robot scrivetemelo nei commenti anche se probabilmente non lo farete cioè non è un gioco molto conosciuto non è un gioco molto conosciuto va bene io direi che per questo episodio è tutto lasciate dei like se volete che lo riporti sul canale questo video è dedicato a tutti coloro che stanno andando a scuola e che vengono massacrati dai professori ok è morto io direi che per questo episodio è tutto ciao ho sbagliato scusate